Il giorno e la storia. Oggi è il 12 febbraio. 1924. Antonio Gramsci fonda l'Unità. 1809. Nasce Charles Robert Darwin. 1804. Muore Immanuel Kant. Commenta il fatto del giorno Alberto Faustini, direttore di Alto Adige e Trentino. Oggi ho scelto di parlare di Vittorio Bachelet, un grande uomo ucciso dalle biere.